Grazie Grazie a tutti Grazie 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 Grazie. 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 Di nuovo in parità, 2 a 2, gol del basso. No, 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 questo è un'altra grafica. Una cosa che fosse, con un qualche problema, non posso fare un'altra grafica. No, 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 no. Ma lì la prende dietro? Anche dietro. Anche dietro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.